Musica Clan Ranucci preso il killer latitante era inserito nell'elenco dei più pericolosi Federico Rapprese, 42 anni arrestato a Milito di Napoli dai carabinieri, si nascondeva nell'abitazione della compagna. Ha tentato la fuga sui tetti, nel 2006 tentò di uccidere il fratello del boss dei Marrazzo. Crisi in comune la svolta di De, ma si sfalda la maggioranza in consiglio comunale a Napoli, De Magistris corre ai ripari. Cambio l'aggiunta, annuncia il sindaco, ma intanto l'opposizione prepara la mozione di sfiducia. Carfagna e Cinque Stelle all'attacco deve dimettersi. Benevento infiamme i minibus di Trotta, ennesimo attentato incendiario nel mirino l'azienda che effettua il servizio di trasporto pubblico locale. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo, ma è giallo sul movente e sull'episodio indagano i carabinieri. Intrappola il piromane del centro storico, arrestato a Napoli il folle che incendiava i cassonetti nella zona dei Comani. Lo hanno tradito alcuni video e in una sola notte ha danneggiato 22 campane per la raccolta differenziata. I roghi hanno distrutto anche auto e moto. Avellino Spena, nuovo prefetto. La sessantenne napoletana Paola Spena, che ha guidato finora la prefettura di Sondrio, nominata al posto di Maria Tirone, promossa al vertice del Viminale. La Spena ha già lavorato in Campania, nella terra dei fuochi, ed è stata al fianco della giunta regionale di Caldoro. Dipendente assenteista, Salerno Pulita Locaccio, l'azienda che gestisce il servizio rifiuti in città, ha fatto scattare il licenziamento dopo una serie di contestazioni scritte. Il sindaco Napoli conferma la linea dura intrapresa dal governatore De Luca. Chi sbaglia paga. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696 TV8 Channel. Quelli che abbiamo appena seguito erano i nostri titoli. E come avete sentito in apertura c'è la cronaca con l'arresto eccellente, l'arresto del superlatitante, il 42enne Federico Rapprese. Ha provato anche la fuga dai tetti, ma è stato fermato dai carabinieri. Nei suoi confronti un'ordinanza del GIP di Napoli, per conto del clan Ranucci, avrebbe provato ad uccidere anche Antonio Marrazzo. Lo hanno preso mentre cercava di scappare dalla casa della compagna, catturato ieri sera dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Federico Rapprese, 42 anni, uno dei latitanti più pericolosi d'Italia, è stato arrestato a Melito di Napoli. Il blitz intorno alle 20, Rapprese e resosi conto di quanto stava accadendo, era uscito dalla finestra dell'abitazione, circondata già dai militari, arrampicandosi sul vano del climatizzatore. Era riuscito così a rifugiarsi sul tetto e da qui in una casa disabitata. Ma i carabinieri, che non l'avevano perso di vista, sono riusciti a beccarlo. Rapprese si trova ora dietro le sbarre. Nei suoi confronti vi era un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA per un presunto tentativo di omicidio aggravato, da finalità mafiose. L'ha arrestato infatti il 30 dicembre del 2006. A Casandrino si rese responsabile, per conto del clan Ranucci di Sant'Antimo, del tentativo di omicidio di Antonio Marrazzo. I complimenti dell'arma dei carabiniere arrivano dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. La cattura di Rapprese conferma l'impegno quotidiano delle forze di polizia e della magistratura sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, precisa il titolare del Viminale. Termina in carcere la sua attività criminale per conto del clan Ranucci. Grazie ai carabinieri, a tutte le forze dell'ordine coinvolte, e invece il commento su Twitter da parte del sottosegretario all'interno, Carlo Sibilia. E torniamo a parlare dell'avvertenza Whirlpool. Questa mattina il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha incontrato a Roma il premier Conte. Ho detto al presidente del Consiglio, spiega il sindaco, che l'opzione principale fa rispettare l'accordo firmato un anno fa, ma ho anche prospettato di valutare una partecipazione pubblica nelle varie articolazioni, governo nazionale, regione, città metropolitana e comuni, all'interno della quota di azionariato di Whirlpool, andando così a intervenire nella produzione di lavatrici e creando un brand. De Magistris ha dunque rilanciato l'idea di dare vita ad una prima fabbrica bene comune in cui i lavoratori possano stare dentro alle forme di gestione, produzione ed anche azionariato. Tutto questo ovviamente con la massima garanzia rispetto al mantenimento dei posti di lavoro, dell'innovazione e del rilancio del sito stesso. E adesso parliamo della crisi a Palazzo San Giacomo. A Napoli manca il numero legale, la maggioranza non c'è, salta il Consiglio. L'opposizione presenta la mozione di sfiducia a De Magistris, ma il sindaco rilancia e dice cambio l'aggiunta. Vediamo. Doveva essere il giorno della sfiducia, ma la maggioranza rosso-arancione non ha raggiunto il numero legale. A Palazzo San Giacomo è saltato ancora una volta il Consiglio Comunale, che non si riunisce da quattro mesi. Le opposizioni hanno presentato la mozione di sfiducia contro De Magistris. Sarà discussa entro il 6 dicembre. Forza Italia, PD, 5 Stelle, Napoli Popolare, Fratelli d'Italia e Lega hanno occupato simbolicamente l'aula consigliare e hanno tenuto una conferenza stampa contro Dema. Nel frattempo il sindaco pensa al rimpasto. Ci saranno sicuramente quattro cambi in giunta, con apertura ai giovani e ai grillini delusi, quelli che seguono FICO, per intenderci. È chiaro lo Stato, il timone è saldo per arrivare al 21, supereremo l'eventuale mozione di sfiducia. Io farò anche dei cambi importanti nelle prossime ore nell'assetto di governo della città. Non mi riferisco solo alla giunta, c'è un argento molto più ampio. Insomma, siamo per partire per una grande volata che porterà a migliorare l'azione amministrativa in città e a consolidare di gran lunga la forza politica di questa esperienza. Entro Natale vuole chiudere la partita e preparare anche la lista per le regionali. Non siamo interessati ad accrocchi un giorno all'improvviso che la gente non capisce. Noi siamo disponibili a metterci in gioco per una grande novità, che potrebbe essere la campagna. Anche se all'interno di questa coalizione ci sono i mondi che vengono dal PD e dal Movimento 5 Stelle, purché non siano operazioni di apparato, purché non ci troviamo i cavi in bastone, purché non ci troviamo De Luca. Se questa è l'operazione, è l'operazione di apparato, di partito, vecchia, vetusta, dove non c'è nessuna novità, noi stiamo già costruendo la lista. Noi per Natale credo che avremo la lista nostra pronta con candidature forti, a disposizione o di un progetto di coalizione o di una battaglia autonoma dove già andiamo a giocare corpo a corpo. E adesso ci spostiamo a Benevento dove non si ferma l'ondata di roghi dolosi che avvengono puntualmente nella notte. Stanotte è toccata due mezzi della trotta bus. Alessandro Fallarino. Ancora una notte di fuoco a Benevento, ennesimo attentato incendiario nel capoluogo Sannita. Dopo una serie di auto incendiate nelle notti scorsi, questa volta nel Mirino è finito un minibus della trotta, l'azienda che per conto del comune di Benevento effetto il trasporto pubblico locale. Due mezzi completamente distrutti dal rogo appiccato intorno alle due. A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito lungo via Santa Columba. Le fiamme sono state appiccate dapprima ad un vecchio minibus adibito al trasporto dei disabili e studenti. Il fuoco ha poi raggiunto un altro minibus, un Iveco Pollicino che ha Benevento effetto alle corse della cosiddetta circolare. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, con due autobotti e i carabinieri della compagnia. I pompieri hanno impiegato circa due ore prima di avere ragione sulle fiamme. I vigili hanno fortunatamente impedito che il fuoco si propagasse ad un terzo mezzo parcheggiato nei pressi. Completamente distrutto invece il primo minibus è danneggiato totalmente l'altro mezzo che è inutilizzabile. I carabinieri hanno effettuato una serie di sopralluoghi ed ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Come si ricorderà, l'altra sera la stessa sorta era stata riservata a due auto lasciate in sosta in mia torre della catena. Troppi dunque gli incendi per pensare a cause accidentali. E ci spostiamo a Napoli, dove è stato preso il piromane dei cassonetti dei rifiuti. Si tratta di un 41enne che per mesi applicava il fuoco anche a diversi veicoli parcheggiati, tutti nella zona dei Cumani, ad incastrarlo il circuito della videosorveglianza. Nella sola notte del 12 giugno scorso diede fuoco a ben 22 campane della raccolta differenziata. In altri episodi i roghi innescati sui rifiuti avevano incendiato moto e auto in sosta e le fiamme avevano raggiunto dimensioni tali da creare danni seri anche ai primi piani delle abitazioni private, come è avvenuto durante la notte del 27 settembre scorso in via Santa Maria la Nova. Dopo un'accurata indagine, il piromane è stato individuato e arrestato. Ci sono volute molte ore di osservazione e appostamento in orari notturni per gli agenti della polizia, ma alla fine, ad incastrare l'incendiario, sono stati sistemi di videosorveglianza installati in prossimità dei luoghi dove sono state di volta in volta piccate le fiamme. Dalle immagini è stato possibile risalire anche alla faccia dell'indagato considerato il responsabile dell'incendio doloso di campane e cassonetti adibiti alla raccolta differenziata di rifiuti di proprietà della SIA, nel periodo compreso tra marzo e settembre 2019 nel centro storico di Napoli. Vincenzo Granato, napoletano di 41 anni, è stato arrestato dalla squadra mobile di Napoli e dagli uomini del commissariato dei decumani su ordine della procura di Napoli, sezione ambiente e urbanistica. Durante una perquisizione a casa del 41enne sono stati sequestrati anche dei vestiti dell'indagato, poi comparati con quelli risultanti dalle immagini analizzate. Non solo, l'analisi del sistema di lettura targhe ha consentito di monitorare il transito dello scooter di Granato negli orari corrispondenti a quelli di innesco dei roghi. Cambiamo argomento, ci spostiamo ad Avellino, dove c'è stato il cambio di guardia in prefettura. Maria Tirone, attuale intendente di governo, lascia l'ufficio per un nuovo incarico al Viminale. Al suo posto arriva la dottoressa Paola Spena. Vediamo. Il primo prefetto donna di Avellino, Maria Tirone, lascia l'ufficio territoriale del governo dopo due anni di servizio. Andrà a ricoprire il ruolo capo di Dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie di Direttore Centrale per le Autonomie presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di Roma. I due anni per Maria Tirone sono stati di grande impegno. In particolare ha seguito le vicende elettorali, ma anche le commissioni di accesso ai comuni a rischio infiltrazione. Grande attenzione anche al fenomeno della collocazione dei migranti in prima linea per le questioni ambientali, la Valle del Sabato ad esempio, ma ha saputo gestire anche alla perfezione le emergenze come il ruogo della ICS di Piano Dardine. Al suo posto arriverà un'altra donna, Paola Spena, sessantenne, nata a Napoli, alla guida della prefettura di Sondrio dall'aprile del 2019. Come si apprende dal sito del Ministero dell'Interno, il prefetto Spena è entrata in amministrazione nel 1987, si è occupata di enti locali e procedure elettorali presso la prefettura di Pistoia, assegnata alla prefettura di Napoli a diretto l'area emigrazione, curando l'avvio dello sportello unico, nonché l'ufficio antimafia e beni confiscati e l'area ordine e sicurezza pubblica. Ha ricoperto prima il ruolo di vice capo di gabinetto e poi quello di capo di gabinetto della prefettura di Napoli fino all'aprile 2017. È stata dunque destinatario di incarico speciale del Ministro dell'Interno per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella terra dei fuochi e ha svolto anche le funzioni di vice capo gabinetto dell'Aggiunta regionale della Campania. Ancora cronaca, assolto per Camorra, il comune casertano di Orta di Atella si chiude l'esperienza dell'amministrazione comunale guidata da Andrea Villano ad un anno dalla sua elezione. La decisione è stata assunta dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese accertati condizionamente da parte delle organizzazioni criminali locali. Sciolto per 18 mesi il Consiglio Comunale con l'affidamento dell'amministrazione dell'ente ad una commissione di gestione straordinaria appunto per lo scioglimento. E adesso cambiamo argomento torniamo a Salerno. Salerno pulita licenzia un dipendente assenteista linea dura del sindaco Napoli contro i furbetti. Vediamo. Dipendente assenteista licenziato da Salerno pulita la partecipata del comune che si occupa del settore raccolta rifiuti in città. Il provvedimento sarebbe stato emesso a seguito di diverse contestazioni scritte nei confronti del dipendente per assenze ingiustificate dal luogo di lavoro. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha ribadito la vicinanza dell'ente alla necessità di rigore preannunciata già dal governatore Vincenzo De Luca. Noi propugniamo decisamente in tutte le nostre partecipate un rigore nei comportamenti un rigore morale e un rigore operativo. Quindi in ordine alle dichiarazioni del presidente De Luca non le ho ascoltate non le ho sentite ma se ha detto delle cose è una persona di grandi visioni di grandi capacità e quindi non dice cose a bambera. Naturalmente noi abbiamo chiesto che dappertutto in particolare anche in Salerno Pulita si facciano tutte le riflessioni utili affinché ci sia un clima di lavoro sereno ma con criteri di verifica sui singoli criteri di verifica severi. Intanto fanno sapere dalla società municipalizzata del comune che si è proceduto a rafforzare il servizio di spazzamento delle strade dove si registravano maggiori sofferenze con l'immissione di ulteriori cinque unità utilizzando il personale prima impegnato nella raccolta dei rifiuti grazie a una riorganizzazione del servizio. E adesso parliamo del ritorno della protesta dei lavoratori degli ex consorsi dei rifiuti nel Sagno che da dieci anni attendono un posto di lavoro presso l'Asia l'azienda che a Benevento si occupa della raccolta dei rifiuti questa mattina hanno minacciato di lanciarsi dalle finestre del comune vediamo Sono solo parole parole e dietro queste parole si nascondono i loro traffici noi non ce la facciamo più Questa mattina Benevento è riesplosa la protesta degli ex dipendenti dei consorsi dei rifiuti sanniti che attendono da oltre dieci anni la stabilizzazione all'interno dell'Asia l'azienda che nel capoluogo sannita si occupa della raccolta dei rifiuti gli ex dipendenti che attendono ora un concorso ad hoc che l'Asia dovrebbe bandire a breve hanno minacciato per lanciarsi dalle finestre del comune ed hanno occupato poi la sala consigliare Le istituzioni ancora una volta si nascondono e così passano i mesi la nostra esasperazione dura da dieci anni noi non ce la facciamo più la nostra proposta è semplice noi abbiamo diritto ad andare a lavorare nell'Asia benissimo mentre l'Asia assume interinale assume precari farebbe bene una volta per tutti a dire ci sono venti lavoratori che sono esasperati che non ce la fanno più portiamo finalmente a lavorare da Palazzo Most intanto arrivano rassicurazioni circa lo svolgimento della procedura che è stata avviata per espletare il concorso stiamo continuando il percorso che la norma ci obbliga a fare non possiamo chiamare un lavoratore e firmare un contratto di lavoro così le norme ci obbligano a seguire un percorso e noi lo stiamo facendo ci sarà una riunione lunedì anche con il dottore Madaro quindi spero che questo sia diciamo si capisca che il percorso è cominciato e che lo stiamo portando avanti ci spostiamo ad Avellino dove già guerra in comune per l'affidamento ad un privato del servizio di riscossione di muettari le minoranze incalzano il sindaco feste parlando di un'operazione priva di trasparenza sui tributi comunali è già guerra l'affidamento dell'intero settore comunale al gestore privato Asso Servizi fino alla fine del 2020 ha innescato un durissimo scontro politico a Piazza del Popolo la notizia è stata discussa ieri in una riunione dei capigruppo della minoranza la bocciatura dell'operazione con cui l'amministrazione mira a recuperare 5 milioni di euro di evasione per intascare la Tari e l'Imu mai pagate dal 2013 ad oggi viene contestata nel merito e nel metodo le minoranze sono pronte a impugnarla anche formalmente davanti al Tar dopo aver sottoposto la procedura ad un amministrativista è possibile che si vada avanti solo esternalizzando le cose che contano mi domando una macchina amministrativa alla fine quale ruolo abbia se si rinuncia su queste questioni ad esercitare una qualche funzione oggettivamente i cittadini si sentono smarriti non si riconoscono più nella casa comunale non si capisce bene perché non si possano utilizzare anche competenze interne non si sa quale sarà il destino del personale che finora era impegnato nell'ufficio tributi siamo un po' un'istituzione che in questa fase brancola un po' nel buio vive alla giornata si affida anche al buon cuore non si capisce bene di chi e soprattutto si affida agli interessi di soggetti esterni l'opera realizzata è completamente difforme rispetto al progetto originario per questo l'archistar Piccaciamarra ha fatto ricorso in tribunale a Salerno non si placano le polemiche su Porta Ovest Giovan Battista Giovan Battista Lanzilli Nuove ombre su Porta Ovest il cantiere che dovrebbe mettere in comunicazione il porto di Salerno con gli assi autostradali e garantire così uno sbocco diretto alle merci in entrata e in uscita il progettista l'architetto napoletano Massimo Piccaciamarra ha presentato ricorso in corte d'appello contro l'autorità di sistema il professionista contesta infatti la difformità dell'opera rispetto all'idea progettuale iniziale di qui la decisione di fare ricorso per il risarcimento dei danni morali richiesta di nomina di un consulente tecnico da parte dei giudici si prefigura dunque il nuovo braccio di ferro giudiziario che rischia di fermare nuovamente Porta Ovest ma l'autorità di sistema non ci sta e ribadisce la necessità di ultimare al più presto l'opera è appena il caso di dire che tutti noi io in particolare abbiamo una grandissima stima nei confronti del professore Massimo Piccaciamarra poi negli ultimi anni le vicende di questo complesso progetto hanno preso una piega diversa ed è vero alcuni anni fa sono state introdotte delle modifiche rispetto alla previsione iniziale del progetto ma ribadiamo tutto l'apprezzamento per l'enorme lavoro fatto dal professore però oggi la priorità è una completare l'opera e quindi cosa fatta capo A oggi il progetto esecutivo che stiamo realizzando e approvato alcuni anni fa è quello ovviamente non si può più tornare indietro e speriamo soltanto che anche il professore abbia come sicuramente ha la sensibilità di capire che il suo onore professionale deve però anche fare i conti con la necessità che l'opera venga ultimata il più presto e adesso andiamo a Benevento dove ci sarà un vero e proprio giro di vite sulla movida notturna più controlli per debellare l'uso e la vendita delle sostanze stupefacenti vediamo maggiori controlli presso nuove telecamere in centro storico a Benevento e quanto stabilito nel corso dell'incontro in prefettura con il comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico al centro della riunione stesa anche i rappresentanti dei comuni più grandi della provincia sannita le disposizioni per la movida in centro e le nuove misure di contrasto alle sostanze stupefacenti una situazione che ci vede impegnati comune comune con le forze di pulizia municipale il venerdì e il sabato che unitamente alle altre forze di pulizia cercano di monitorare il territorio per evitare inconvenienti relativi ai reati che possono essere proprietati al di là di quella che può essere la rissa o la scazzottata che non voglio dire fisiologica ma sicuramente da evitare abbiamo rappresentato la necessità di tenere alta la guardia soprattutto per quello che è lo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto in alcuni diciamo così un po' più remoti alcuni anfratti delle zone del centro storico sarà incendivato il controllo anche di queste zone un po' diciamo ai bordi ai margini della movida di qui la decisione di attivare anche le nuove telecamere già predisposte nel centro storico del capoluogo sannita dispositivi che dovrebbero diventare presto operativi a breve entreranno in funzione il comune di Benevento anche le ulteriori quattro telecamere che sono presenti ai varchi del centro storico sta completando in questi giorni a giorni penso la settimana prossima ci sarà anche il collaudo dei cavi in fibra che porteranno le immagini direttamente al comando di polizia municipale e credo che nel prossimo anno abbiamo giù i fondi a disposizione sostituiremo anche tutte le altre telecamere che abbiamo in città poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto ieri sera sul raccordo Avellino-Salerno in direzione sud poca distanza dallo svincolo di fratte l'autista di un camion ha perso il controllo del mezzo pesante finendo di traverso e occupando l'intera carreggiata il malcapitato ha riportato ferite alla spalla ed è stato soccorso dai volontari della solidarietà di Fisciano gravi disagi alla circolazione con code chilometriche e tempi di percorrenza lunghissimi e adesso parliamo di calcio integrazione vi raccontiamo una bella storia che arriva ad Ariano Irpino dove la locale squadra che milita nel campionato di eccellenza ha ingaggiato sette calciatori di colore per abbattere pregiudizi e luoghi comuni Gianni Vigoroso fusione integrazione e promozione del territorio e il trinomio vincente dentro e fuori il rettangolo di gioco la formula senza dubbio originale è stata coniata dalla squadra di calcio Vissariano Accadia che milita nel campionato di eccellenza due città due regioni dai noti trascorsi calcistici che hanno puntato soprattutto su giocatori di colore per mettere a segno gol contro pregiudizi e luoghi comuni quando abbiamo scoperto le qualità umane di questi ragazzi li abbiamo messi nella migliore posizione possibile per rimanere qua vivono in un appartamento un ottimo appartamento quindi seguiti sia sul campo che fuori dal campo provengono dalla costa d'Avorio Niger Senegal Francia Belgio e Ucraina oggi diciamo sugli stati di serie A ci sono ancora degli aspetti di razzismo nei confronti di quelli di colore invece noi abbiamo voluto sposare questo progetto per far grande la nostra comunità e dare un esempio di civiltà e di umanità al territorio si sentiamo ben integrati anche ragazzi che sono francesi che vengono da Francia ma anche si sono ragazzi di colore ma si stanno integrando bene e sul caso Balotelli che ha fatto tanto discutere nelle ultime ore pur trattandosi di una vicenda dai contorni ancora poco chiari che Baggassama fa questa considerazione sono i dirigenti del calcio italiano che devono combattere questi fatti perché io uno come me non le chiamo mai razzismo io le chiamo ignorante lo stato ha abbandonato mio padre ai ragazzi dico di tenere alta la guardia per difendere la legalità a Salerno la testimonianza di Fiammetta Borsellino la figlia del giudice ucciso dalla mafia la necessità di testimoniare i valori della legalità soprattutto alle giovani generazioni in un territorio come la Campania dove è forte la presenza della criminalità anche tra i ragazzi Fiammetta Borsellino figlia del giudice trucidato dalla mafia ha fatto tappa questa mattina all'istituto Galilei di Palo di Salerno per incontrare gli studenti delle scuole superiori e lasciare una concreta testimonianza di impegno civile anche se resta ancora tutta l'amarezza per la mancata vicinanza dello stato al giudice Borsellino in quella drammatica stagione di lotta alla mafia Il problema della criminalità organizzata è un problema che ad oggi sussiste in forme sicuramente diverse rispetto a 27 anni fa quindi quando si parla dei ragazzi non si deve limitare ad un mero racconto di quello che è successo 27 anni fa ma bisogna fare in modo che questo esempio che è stato dato da uomini che hanno sacrificato la loro vita per quello in cui credevano diventi proprio un patrimonio un patrimonio e che questi valori siano messi in pratica a partire appunto dal cambio delle coscienze delle nuove generazioni mio padre diceva sempre morirò quando la mafia avrà l'assoluta certezza che sarò rimasto da solo e quando altri lo permetteranno è ovvio che in una frase del genere vi è la coscienza e la sensazione forte di una solitudine e di un abbandono a partire proprio dalle istituzioni stesse da parte mi è tutto grazie ad Aldo Fenizia in regia vi lascio le previsioni del tempo poi c'è il TG Sport il TG Sport il TG Sport il TG Sport Grazie a tutti.